Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto fotocamere digitali compatte Fui Film Finepix XP 170. Obiettivo con zoom ottico 5x Fui non. Sensore CMOS 14. 4 megapixel 1.2.3 pollici. Monitor LCD da 6.9 cm con 230.000 pixel. Protezione quadrupla. Impermeabile fino a 10 metri. Protezione dalla polvere. Resistente alle cadute fino a 2 metri. Resistente al gelo fino a 10C. Wireless image transfer. High speed video. Motion panorama 360. Assistente fotolibro. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon EU. Dalla pubblicità e link alla Amazon IT. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.